Ciao a tutti e bentornati con questo nuovo video del canale come fare. Visto l'interesse crescente per le case senza gas, per via dei costi sempre più alti in materia di energia, voglio raccontarvi e farvi vedere la mia casa senza gas e per buona parte anche indipendente dal punto di vista della corrente elettrica. La domanda che spesso mi pongono le persone è ma è davvero possibile vivere in una casa senza gas? La risposta è sì. Vi dico anche che siamo nel nord Italia e abbiamo appena passato un inverno con temperature spesso sotto zero durante la notte, alle volte anche durante il giorno. Che lavori abbiamo fatto? Partiamo dall'isolamento termico con l'isolamento del sottotetto e il cappotto esterno. Abbiamo installato i pannelli fotovoltaici e una batteria di accumulo. Questo fa sì che durante il giorno tutta l'energia che noi produciamo, oltre ad alimentare la casa, va a caricare le nostre batterie che poi ci ridaranno la corrente elettrica per la notte. Quando non si produce abbastanza o quando la richiesta è più alta andiamo ad acquistare l'energia dal gestore, come fanno tutte le altre case. In cucina abbiamo il piano cottura-induzione, quindi appunto va ad energia elettrica. E l'acqua sanitaria e il riscaldamento? Abbiamo optato per un aggregato compatto che fa tutto. Riscaldamento, raffreddamento estivo, produzione di acqua calda sanitaria e ventilazione meccanica. Tutto tramite queste bocchette di ventilazione che sono situate in tutte le camere della casa. Rispetto alle normali pompe di calore, questo sistema ha il vantaggio di utilizzare l'aria viziata che viene estratta dalla casa come parziale sorgente della pompa di calore stessa. Questo fa sì che, ad esempio, quando voi mettete a bollire l'acqua per la pasta, tutto il vapore e il calore sviluppato cucinando viene recuperato dalla pompa di calore per creare del calore nuovo e per scaldare l'aria, aspirata dall'esterno e immessa dentro la casa. In più, l'aria che viene immessa all'interno della casa è un mix tra l'aria esterna filtrata e l'aria di ricircolo, presa tramite una bocchetta separata lontana da fonti inquinanti come cucina o bagno. In estate, durante il raffreddamento della casa, la produzione dell'acqua calda sanitaria è totalmente gratuita, in quanto il calore che la pompa di calore disperderebbe all'esterno viene in realtà utilizzato per scaldare proprio l'acqua sanitaria. Quindi, tornando alla nostra domanda iniziale, con un buon progetto, un buon isolamento e macchine in pompa di calore performanti, non solo si può, ma il comfort interno dell'abitazione non ha paragoni con gli altri sistemi. Grazie.